Buongiorno a tutti, grazie della presenza e soprattutto grazie per la partecipazione a questa conferenza stampa. Oggi inizia un ciclo dove le aziende presenteranno un po' l'attività che stanno svolgendo, gli obiettivi, i risultati raggiunti e racconteranno un po' gli effetti della riforma, ma non solo della riforma, delle attività che si stanno svolgendo sulle nostre aziende e poi quindi di conseguenza sul territorio. Io però sarò veramente brevissimo e penso che sia utile e importante passare subito la parola alla dottoressa Capalbo, direttrice di IRCA che illustra e poi dopo così potremo insomma più tardi riintervenire, fare domande e cercare di dare risposte. Allora, intanto ringrazio il Presidente e il Vicepresidente per l'invito e il sottosegretario, è già incominciata con la GAF. Veramente siamo onorati come squadra, come IRCA e siamo orgogliosi di presentare quello che abbiamo fatto in quest'anno ormai alle spalle e quello che continueremo a fare nel 2024. Io ho portato con il direttore scientifico, la professoressa Olivieri, abbiamo portato alcune testimonianze di quello che è stato ma che non è stato ma è presente e sarà anche futuro. Veramente come IRCA io mi sento di dire che c'è un clima frizzante, c'è un senso di appartenenza come squadra. Mi dispiace oggi che non possano essere presenti tutti gli altri componenti della squadra perché siamo una squadra praticamente abbastanza strana nel panorama nazionale. Noi siamo l'unico IRCS pubblico di tipo multiregionale, infatti abbiamo tre sedi in tre regioni diverse e siamo praticamente abbiamo una matrice praticamente di tipo trasversale geriatrica gerontologica ma la cosa bella è che praticamente lavoriamo anche non solo sulla parte ospedaliera ma anche sui modelli organizzativi, innovativi e anche sulla parte socio-economica, è importantissima. Allora questi appunto siamo noi, tre regioni, 477 lette accreditati, 5 presidi ospedalieri, Lombardia, Marche e Calabria però abbiamo anche un'esperienza di tipo territoriale importantissima e questo ci sta favorendo nel poter sperimentare dei modelli innovativi, dei modelli di medicina di prossimità che è quello che praticamente ci dice sempre l'assessore e il presidente. Stiamo cercando di lavorare per portare buone pratiche tant'è che il 14 di dicembre abbiamo effettuato un focus, un laboratorio dove abbiamo presentato alcune delle nostre buone pratiche che sono state prese a riferimento da Agenas. Queste sono le linee di attività della ricerca. Allora ovviamente il quadro epidemiologico della regione Marche lo conosciamo tutte che è una delle regioni più longevi a livello italiano ma la cosa bella e sono orgogliosa di dirlo che anche il piano socio-sanitario con la deliberazione 57 se non vado errato ha parlato dell'IRCA. Ci sono ben quattro pagine che riguardano l'IRCA la collaborazione dei nuovi modelli organizzativi ma anche la collaborazione con le università. Allora, incominciamo dal 2023, raccontiamo quello che è stato, ancora i dati non sono chiusi però io penso che incominciamo a raccontare una bella storia dove si vedono il numero dei ricoveri e ritorniamo al periodo prependemico, quel numero che vedete della 2023 previsionale non è vero che è più basso del 2019, è più basso semplicemente perché abbiamo lavorato sulla proprietezza, abbiamo lavorato sui diversi setting assistenziali più appropriati quindi abbiamo spostato gli ordinari in dei hospital, i dei hospital in prestazioni ambulatoriali. Quello che vedete c'è anche il valore della produzione, bene la produzione è superata abbondantemente quello che era il 2019, ma la cosa bella è che anche con la parte chirurgica perché noi abbiamo prevalentemente delle unità operative di tipo medico con DRG di tipo medico con un'età media che è di circa 80 anni abbiamo aumentato praticamente la parte chirurgica a partire già da settembre del 15%. Abbiamo implementato l'attività operatoria sia di Ancona che di Osimo aumentando ben 400 interventi chirurgici. Questa è l'attività ambulatoriale, anche qua si può vedere come praticamente sia superiore addirittura all'età, alla periodo prepandemico ma la cosa bella è sinceramente dico grazie al mio direttore amministrativo che ha voluto il fucsia, ha voluto il rosa, a noi ci piace il fucsia dove si vede quel grafico dove il blu rappresenta il 2022 e praticamente il fucsia rosa rappresenta il 2023 dove dico che grazie alla tenacia, non aggiungo altri aggettivi assessore abbiamo lavorato fortemente sul discorso dell'abbattimento del governo delle liste d'attesa dell'abbattimento delle liste d'attesa soprattutto per quello che sono le prestazioni monitorate del piano nazionale governo listo d'attesa dove si vede anche dalla tabella c'è stato un aumento del 30% e abbiamo lavorato praticamente erogando 12.000 prestazioni in più dico non è stato facile perché abbiamo veramente rivisto tutto il sistema organizzativo a cominciare dal CUP rivedendo e omogenezzando anche le agende praticamente a livello di regione Marche perché ancora una volta ripeto noi eroghiamo prestazioni a Fermo, ad Ancona, ad Osimo allora poi questo sinceramente è il mio orgoglio io mi sento mamma di questo modello sempre grazie alla regione, presidenza e vicepresidenza ad aprile praticamente ricevo una telefonata e mi si dice voi siete pronti per sperimentare dei modelli di telemedicina e tecnoassistenza evolutiva bene, parte l'avventura e praticamente parte l'avventura con la tecnoassistenza evolutiva e la presa in carico del paziente questo progetto è diviso in due step il primo step che è quello dei punti salute e il secondo step invece è la telemedicina e la presa in carico del paziente al domicilio ebbene ecco i punti salute i punti salute non sono altro che degli ambulatori di medicina di prossimità gestiti da infermieri e di comunità che prendono in carico il paziente l'infermiera eroga prestazioni quali educazione sanitaria rilevazione dei parametri vitali ma grazie agli strumenti di telemedicina e tecnoassistenza effettuiamo anche prestazioni tipo spirometria ICG cardiaci, alterpressori, altercardiaci dermatoscopia e speriamo di poter implementare anche nell'ambito dell'abbattimento l'istratessa poter comprare dei retinografi o MOC a livello opzionale per arricchire le prestazioni che potremmo effettuare a livello dei punti salute e queste prestazioni poi vengono riflettate dagli specialisti IRCA questo è il cronoprogramma siamo pronti abbiamo attivato due punti salute siamo prontissimi per attivare Filodoro a Osimo poi c'è Monte Vidoncorrado praticamente nelle sedi dove sta l'IRCA nel Fermano e San Ginesio dove stiamo istituendo praticamente l'infermiere di comunità siamo partiti con la tele riabilitazione al domicilio in Lombardia partiremo anche nelle Marche e siamo partiti con la presa in carico del paziente con telemedicina in Calabria e devo dire ancora grazie a questa giunta perché c'era un accordo fermo da anni con la regione Calabria appena portato il problema assessorato e presidenza hanno inviato il protocollo alla regione Calabria insisto sulla regione Calabria perché è importante la regione Calabria? perché la regione Calabria è quella che permette favorisce lo stato di IRCS anche per la regione Marche ed è quella che dà un contributo del 33% sull'impact factor noi siamo IRCS se pubblichiamo poi dopo ne parlerà la professoressa altre esperienze che abbiamo messo in campo come dicevo prima la tele riabilitazione a domicilio e il telemonolitoraggio a domicilio dove partiremo con la pneumologia di ossime con la cardiologia dell'IRCA per i pazienti con scompenso cardiaco e con broncopnomopatia cronico-ostruttiva ecco quest'altro progetto che è un fiore all'occhiello perché me lo stanno chiedendo anche da Roma come Agenas siamo partiti con la dialisi peritoneale assistita al domicilio allora che cosa abbiamo fatto? praticamente sappiamo benissimo che l'ultima fase è l'emodialisi e poi c'è il trapianto di rene noi abbiamo tantissimi pazienti con insufficienza renale cronica il nostro obiettivo proprio per la finalità geriatrica gerontologica è quello di mantenere il più possibile i pazienti al domicilio portare le cure al domicilio ma non portare i pazienti in ospedale perché se li portiamo in ospedale aumentano i disagi e sappiamo benissimo anche possono aumentare anche cioè peggiora anche lo stato di salute del paziente perché tu lo sradichi dal proprio stato di comfort allora abbiamo attivato la teledialisi a domicilio ma abbiamo fatto altro per quei pazienti non autosufficienti che non hanno il caregiver ovvero il familiare che li assiste nella dialisi peritone al domicilio abbiamo formato noi tre os come caregiver che vanno al domicilio abbiamo veramente livelli altissimi di gradimento ed è una cosa veramente bella di portare aiuto ecco questa è la vera sanità di prossimità la vera sanità capillare che arriva a casa del paziente poi abbiamo anche progetti praticamente di inclusione sociale e invecchiamento attivo abbiamo il progetto IRO che ha formato in un progetto di tipo internazionale con 12 paesi dove IRCA ha preso parte nella formazione di cittadini migranti che sono stati formati all'IRCA e che praticamente ha favorito l'inclusione sociale ma ha favorito anche l'assistenza come badanti al domicilio di persone che non trovavano che erano praticamente vivevano la solitudine e poi abbiamo anche un progetto di invecchiamento attivo finanziato di agricoltura sociale Marche che praticamente ha portato nel maceratese questo progetto si sta sperimentando ed è un laboratorio di longevità attiva e ha aumentato dagli studi venuti fuori nella prima fase dello studio ha aumentato il benessere percepito dei partecipanti e ha migliorato anche le qualità fisiche e psichiche dei pazienti in ultimo non per ultimo è quello che praticamente stiamo cercando di fare e speriamo di arrivare all'apice oltretutto abbiamo avuto anche un premio il 10 il 10 di dicembre sull'intelligenza artificiale noi nel nostro piccolo stiamo lavorando con l'università Politecnica delle Marche con il progetto Masaico che affianca il punto salute ma non solo praticamente abbiamo stiamo lavorando in endoscopia digestiva dove gli strumenti innovativi comprati in endoscopia digestiva praticamente sono dotati di intelligenza artificiale e migliorano la diagnosi praticamente e addirittura la rilevazione automatica di lesioni piccolissime stiamo lavorando anche con l'intelligenza artificiale con software della radiologia per la gestione del paziente con stroke e anche in clinica medica geriatrica con delle web app che praticamente calcono il rischio cardiovascolare e quindi ci permettono addirittura di fare il monitoraggio nelle 24 ore prego professoressa chiedo scusa per i giornalisti questa è una conferenza stampa stamattina c'è il convegno sul tumore al conorretto c'è un altro convegno a torrette sul procedimento il processo di informatizzazione di robotizzazione di interventi io ero a torrette sono venuto qua perché si erano allungati i tempi quindi vi chiedo la cortesia di consentirmi un breve intervento poi c'è il presidente della regione salvi e tutti quanti io devo fare due passaggi naturalmente questa concentrazione di interventi sta a sottolineare l'impegno che la regione sta mettendo per la riforma e l'attuazione della riforma sanitaria che come voi sapete è entrata in vigore il primo gennaio dello scorso anno ma che quest'anno dovrà produrre i suoi effetti il 9 agosto abbiamo approvato il piano sociosanitario e lì sono individuata tutta la domanda sanitaria della nostra regione e quindi è stato avviato il percorso per la riorganizzazione della sanità a livello aziendale IRCA è una eccellenza come sappiamo io non mi dilungo su nulla però il processo che è stato avviato è stato quello di valorizzare le risorse presenti noi abbiamo degli scienziati in IRCA e quindi non valorizzare queste professionalità assolutamente avanzate uniche a livello nazionale significa non impiegare le risorse pubbliche che abbiamo a disposizione poche ma le dobbiamo applicare nel miglior modo possibile quindi valorizzazione delle risorse ricerca applicata quindi possiamo essere all'avanguardia attraverso la ricerca che state facendo quindi l'intervento che verrà svolto sicuramente sarà su quello l'internazionalizzazione delle competenze mediche quindi anche su questo punto stiamo sviluppando dei protocolli e se mi permettete soprattutto l'inquinamento dei saperi tra IRCA Torrette e le aziende territoriali mi permetto di dire che il PNRR IRCA lo ha anticipato con i suoi punti salute sapete perfettamente di che si tratta noi ne dovremo aprire 50 ma il modello è quello dell'IRCA il cittadino può accedere a questo punto salute quindi lo sto dicendo non perché faremo diremo è un programma abbiamo acquistato le tecnologie e nelle prossime settimane ne avvieremo proprio all'attività 50 io ho un lunghissimo elenco cosa c'è all'interno dei punti salute applicazione scientifica della telemedicina il cittadino ha tutta una serie di strumentazioni tra cui l'olterpressore l'oltercardiaco elettrocardiogramma che noi trasferiamo nei nostri hub e in alcuni posti ci saranno anche i punti prelievi questo ci consente di lenire il problema della carenza di medici in medicina generale e della mancata formazione di medici che noi abbiamo cercato di mitigare attraverso le borse di specializzazione la legge finanziaria ci aiuta a garantire che attraverso queste prestazioni è stato aumentato il diciamo così la remunerazione per le prestazioni aggiuntive portando al 100 euro anche per non solo per i medici e il pronto soccorso ma anche per tutti gli altri quindi questo è il piano operativo per abbattere le famose liste di attesa di cui io mi sto occupando tutti i giorni e anche la notte il presidente lo sa il sottosegretario pure che le liste di attesa sono naturalmente gli incipit da cui noi ci muoviamo perché e concludo è importante valorizzare questo perché guardate che il sistema sanitario ha tante carenze ma delle eccellenze così importanti che non rimeritare il personale medico sanitario dalle osse in su significa veramente commettere un delitto quindi ci sono delle racune ma l'impegno straordinariamente importante che IRCA sprigiona la nostra regione e anche a livello nazionale ecco sarebbe un peccato che l'opinione pubblica i cittadini non potessero cogliere o non potessero valorizzarlo io concludo e vi chiedo scusa per questo mio inframmettenza ma naturalmente dovete sapere il presidente Acquaroli con il suo metodo sempre molto democratico però ci spinge chiaramente non perde male staff però ci spinge chiaramente a raggiungere gli obiettivi io chiaramente sono molto più pressante certe volte la dottoressa Gabalbo dice che sono gentile come la carta vetrata però naturalmente ecco devo dire che non possiamo chiedere oltre l'ultima cosa Maria sinceramente ecco prendetevi il merito di quello che avete fatto cioè no quel colore fuzia voi avete diritto di prendervi il merito di questo grande impegno e la politica ve lo deve riconoscere io da assessore alla sanità ecco devo dire con grande chiarezza così come quando sono in grado di rimproverare quando le cose non vanno e tu lo sai ecco devo rimeritarvi e ti prego che questo messaggio debba aggiungere a ciascun dipendente dell'IRCA perché ecco l'impegno che voi avete dimostrato è un impegno molto importante nobile al servizio della nostra comunità io presidente ti chiedo scusa però se non intervengo là poi grazie indubbiamente l'attività di ricerca e l'attività di assistenza clinica rappresentano per l'IRCA un binomio indissolubile i nostri professionisti quotidianamente sono coinvolti in attività assistenziali e in attività di ricerca lo fanno in maniera integrata e sinergica e questo per assicurare che qualunque paziente si rivolga alle nostre strutture sappia di poter contare su un'expertise un'expertise specifica sul paziente geriatrico che deriva proprio dall'attività di ricerca a cui tutti i nostri professionisti si dedicano se vogliamo più in dettaglio indicare gli aspetti più salienti della ricerca scientifica all'IRCA dobbiamo sottolineare l'enorme sforzo per la progettualità quindi l'IRCA partecipa a numerosissimi progetti collaborativi in ambito nazionale e internazionale dobbiamo sottolineare lo sforzo per aumentare il numero dei ricercatori di coloro che si dedicano attivamente alla ricerca in particolare i giovani ricercatori a cui dobbiamo assicurare un percorso di crescita professionale e dobbiamo sottolineare l'impegno ad aumentare la produzione scientifica perché questo è uno dei parametri anzi è il più importante su cui il ministero ci valuta proprio per assegnarci poi il riconoscimento di istituto di ricovero cura a carattere scientifico per quanto riguarda i progetti l'IRCA ha contabilmente attivi ad oggi ben 87 progetti questo è un numero molto importante se si tiene conto anche della enorme complessità di alcuni di questi progetti come potete vedere dalla torta una quota riguarda i progetti europei questi sono progetti a cui l'IRCA partecipa insieme a prestigiose università istituti di ricerca internazionali due di questi importanti progetti prenderanno l'avvio proprio nel 2024 a questi progetti partecipa anche la regione che ha una sua componente di ricerca anche la regione Marche e i due progetti a cui mi riferisco riguardano uno la prevenzione oncologica e l'altro la prevenzione delle patologie cardiovascolari e della patologia diabetica una fetta importante dei progetti di cui si occupa l'IRCA riguarda i progetti ministeriali e qui vorrei sottolineare come il Ministero della Salute ha istituito ormai qualche anno fa ben 5 reti degli IRCS italiani e l'IRCA partecipa ad almeno 3 di queste reti per quanto riguarda la rete aging non solo l'IRCA partecipa insieme ad altri 12 IRCS ma l'IRCA è l'istituzione di IDER e detiene la presidenza della rete aging voglio infatti ricordare che questo non può che essere un motivo di vanto per la regione Marche perché come ha già sottolineato il nostro direttore generale l'IRCA è l'unico istituto di ricovero e cura carattere scientifico che il Ministero riconosce come specializzato nella geriatria gerontologia per quanto riguarda i progetti attivi della rete aging due sono quelli più importanti uno è il Next Generation Promising e l'altro è il progetto High Comet il primo progetto prevede di trasferire di applicare il concetto della medicina di precisione alla geriatria e questo è un progetto molto importante perché la medicina di precisione intende praticamente cucire un vestito su misura su ogni paziente o su ogni gruppo di pazienti esiste una grande variabilità fra coloro che soffrono di determinate patologie e l'approccio della medicina di precisione tiene conto di questa variabilità per quanto riguarda il secondo progetto High Comet questo prevede la progettazione e la realizzazione di una piattaforma tecnologica avanzata che permetta di utilizzare dati più o meno strutturati che vengono messi a sistema in modo tale da generare risultati di ricerca solidi utilizzando anche o soffrendo anche del supporto dell'intelligenza artificiale l'IRCA oltre a presiedere la rete aging partecipa ad altre due reti la rete cardiologica e la rete neurologica la rete cardiologica include 20 IRCS sul territorio nazionale ed è al via proprio in questi mesi il progetto di prevenzione primaria cardiovascolare voluto dalla rete aging saranno arruolati 30.000 soggetti sani in tutta Italia dai 40 agli 80 anni verrà profilato il loro profilo di rischio cardiovascolare verranno sottoposti gruppi differenti a diverse strategie di prevenzione del rischio e al termine di questo studio longitudinale che inizia quest'anno e durerà 4 anni si valuterà qual è l'intervento migliore in termini di prevenzione del rischio cardiovascolare l'IRCA partecipa arruolando circa 1000 soggetti agli arruolati verrà fatto anche un prelievo di sangue che sarà poi conservato nella nostra biobanca di materiale biologico IRCA la biobanca Bioger e questo ci permetterà di fare tutta una serie di studi per identificare nuove molecole circolanti per predire il rischio delle malattie cardiovascolari l'altra rete a cui partecipa l'IRCA è la rete neurologica partecipiamo grazie all'acquisizione di strumentazioni all'avanguardia che permettono anche in questo caso di dosare nel sangue alcune molecole che fino a qualche mese fa era possibile dosare solo nel liquor e che potrebbero dare importanti informazioni per la predizione o per la diagnosi precoce delle patologie neurologiche fra queste sicuramente l'Alzheimer una quota importante di progetti dell'IRCA è stata finanziata con i fondi PNRR non abbiamo tempo per descriverli tutti voglio solo segnalarvi il progetto più importante a cui l'IRCA partecipa è il più grande parternariato esteso italiano in questo momento che si occupa delle tematiche dell'invecchiamento a 360 gradi include 25 fra istituzioni di ricerca IRCS università anche aziende private e altri enti di ricerca le attività sono molto complesse divise in 10 attività principali l'IRCA coordina una di queste attività che vede proprio la sinergia fra elementi clinici fattori di vita fattori ambientali e quindi stili di vita e diciamo la prevenzione e la diagnosi di tutte le patologie età associate che ricordo sono le patologie che affliggono in prevalenza la popolazione anziana e che rappresentano la principale causa di disabilità e di mortalità per quanto riguarda l'attenzione dell'IRCA ad aumentare il numero dei ricercatori che si occupano quindi attivamente della ricerca nel nostro ente nel 2023 è stato chiuso il piano di occupazione annuale che ha portato l'IRCA ad assumere complessivamente negli ultimi 5 anni 40 nuovi ricercatori con profili contrattuali diversi 26 sono i ricercatori sanitari 14 sono i supporti alla ricerca bene perché parliamo del percorso della piramide perché questi ricercatori sono stati assunti con contratti di 5 anni rinnovabili nell'arco di questi 10 anni se raggiungeranno gli obiettivi sfidanti di ricerca posti dal ministero potranno passare a dei contratti a tempo indeterminato e infine l'aspetto che riassume anche un po' quelli di cui abbiamo appena parlato aumentare la produttività scientifica dell'IRCA noi siamo valutati in base a dei parametri bibliometrici sono parametri quantitativi numerici dobbiamo raggiungere una certa quota di produzione scientifica ma noi ci stiamo muovendo per aumentare non solo la quantità ma soprattutto la qualità cioè produrre non solo e non tanto tanti lavori scientifici ma di alta qualità se come potete vedere dall'andamento 2019-2023 un trend in aumento di questi parametri che permettono al Ministero della Salute di giudicare i vari IRCS nel 2024 c'è un obiettivo altamente sfidante che intendiamo raggiungere proprio grazie a tutte le strategie di cui abbiamo appena parlato intendiamo anche aumentare la sinergia con gli altri enti di ricerca partendo proprio dal territorio quindi verranno attivate delle piattaforme congiunte integrate di ricerca e partiremo prima con piattaforme IRCA Università Politecnica delle Marche e IRCA e Università della Calabria poi eventualmente estendibili ad altre università io vorrei concludere con questo augurio spero di potervi rincontrare nel corso dell'anno in corso per potervi presentare i risultati magari particolarmente importanti di ricerca importanti che possano avere una chiara rilevanza a livello nazionale e internazionale possano portare lustro alla nostra istituzione e quindi anche alla sanità regionale grazie a tutti lascio la parola al direttore per la conclusione ci chiedevano quali sono le prospettive quali sono le prospettive del 2024 non possono che non essere il consolidamento di quello che stiamo portando del seme che abbiamo messo nel 2023 e quindi il continuare a lavorare sulla qualità delle prestazioni e sull'aumento della produzione sul governo delle liste d'attesa sulla digitalizzazione dei processi della telemedicina con il completamento degli ulteriori punti salute ma come ho detto prima anche della presa in carico dei pazienti al domicilio e con l'integrazione sociosanitaria con la prevenzione con l'invecchiamento attivo sempre con i nuovi con la messa a terra di nuovi modelli organizzativi visto che abbiamo la fortuna anche di essere un IRCCS e ovviamente i rispezi degli addendimenti del PNRR soprattutto per quanto riguarda i progetti della ricerca e ricerca 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 ma anche produzione 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 perché nel 2023 il mantra è stato quando mi vedevano abbiamo capito produzione produzione allora io però voglio chiudere con questi punti allora l'ho già detto l'incremento della produzione lo sviluppo della tecnosustenza però io ho lanciato una sfida perché il punto salute lo dico me lo sento come una creatura come una creatura che è venuta bene ecco e sta crescendo però la creatura adesso deve avere praticamente una famiglia e allora siccome noi abbiamo praticamente una famiglia di creature anziane abbiamo più sede nella regione marche e volemmo sperimentare un villaggio della salute presidente senza risorse in più glielo dico senza risorse in più appunto innovazioni di modelli organizzativi perché ce lo consente anche e soprattutto il nuovo decreto legge delega la legge 33 che parla di anziani che parla di invecchiamento attivo che parla di presi in carico delle persone che parla di inclusione sociale che parla di rapporto intergenerazionale intergenerazionale e ovviamente quello che diceva la professoressa il rapporto delle piattaforme con le con le università e questo presidente mi dispiace che sia andato via l'assessore noi chiediamo a gran voce quello che è previsto nella legge del 288 perché l'IRCA non è il riconoscimento della quota scientifica cosa che è prevista invece siccome noi abbiamo la sede in Lombardia la Lombardia ha il riconoscimento della sua scientificità con un valore del 7% della produzione lo stiamo chiedendo anche in Calabria e ci auguriamo ecco questo le chiedo scusa presidente però e l'altra l'altra questione è come lei lo ha detto l'altra volta a chiare lettere ma praticamente ormai da quando da un anno a questa parte lei dice sempre una cosa che non bisogna essere singoli non bisogna essere lavorare in solitaria magari raggiungere tutti gli obiettivi ma che bisogna lavorare in squadra perché gli obiettivi li vince la squadra e della squadra che alla fine vince e per quello ha aggiunto la diapositiva che poi dopo lascio la parola il dottor Salvi perché il dottor Salvi ci guiderà anche come provincia di Ancona la collaborazione con tutti gli altri enti del servizio sanitario regionale faccio presente che c'è grande collaborazione con l'azienda ospedaliere universitaria abbiamo attivato delle convenzioni abbiamo praticamente una convenzione proprio per un discorso di osmosi di mutua collaborazione dove torrette le sale operatori sature praticamente stiamo collaborando insieme in modo che determinati interventi ovviamente definiti classe da contanto di protocolli con la chirurgia generale che opera osimo sono attive stiamo lavorando stiamo predisponendo anche alla luce dell'incontro fatto perché altro mantra che lei ha detto l'altra volta la mobilità passiva con l'ortopedia stiamo provenendo ad attivare convenzioni con torrette con l'ortopedia in modo che l'ortopedia possa venire ad operare nelle sale operatorie e anche con la neurochirurgia ho concluso grazie 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 abbiamo delle eccellenze interessanti personalmente conoscevo solo in parte anche se è vero che mi affaccio al sistema regione da poco quindi ecco volevo partire dall'ultimo punto della del direttore della direttrice quella di collaborazione interaziendale che è qualcosa che già si sta ma lo porteremo ad un livello molto più spinto chiaramente nell'obiettivo nell'ottica dell'integrazione massima possibile detto questo volevo valorizzare ulteriormente alcuni punti della produttività si è già parlato non ci ritorno ma ci sono alcuni aspetti molto qualificanti il primo è questa integrazione ricerca assistenza questo è fondamentale la ricerca fino a se stessa non produce nulla invece la ricerca deve essere finalizzata all'assistenza finalizzata a migliorare le strategie di assistenza e le strategie operative l'altro aspetto è la medicina di prossimità per l'invecchiamento della popolazione la quota di anziani che abbiamo nelle marche non possiamo per tanti motivi non solo non tanto sanitari per tanti motivi più socio sociali più socio sanitari che sanitari non possiamo fare a meno di una medicina di prossimità avanzata che spingeremo ancora di più l'intelligenza artificiale è interessantissima è fondamentale se avete notato mi sono congratulato prima con la dottoressa con l'intelligenza artificiale ci sono modelli che riescono a prevedere gli eventi questo è di un'importanza strategica organizzativa e di produttività diciamo appropriata fondamentale quindi lavoreremo sicuramente insieme su questo progetto e cercheremo di allargarlo ecco importante che tutta la popolazione marchigiana ne possa usufruire e su questo ci impegneremo credo che il Presidente condivida con me questa idea ci impegneremo al massimo possibile un'altra cosa che volevo ancora focalizzare è l'invecchiamento attivo l'invecchiamento attivo anche questo è un aspetto fondamentale interessante tutto sommato neppure troppo complesso su cui mi fa piacere e su cui potremo poi coinvolgere anche altre organizzazioni perché questo può interessare anche gli aspetti sociali dei comuni e così via quindi però è un aspetto che deve essere chiaramente governato da una struttura di competenze per farlo ma ci può produrre grandi cose se no se come si è già detto anziani portati in ospedale perdono scusate perdono anni di vita l'ospedalizzazione fa perdere anni di vita per vari motivi non posso entrare su questo quindi poterli tenere a domicilio quindi con un invecchiamento attivo e con altri interventi che sono stati fatti e che saranno fatti che cercheremo di portare al massimo è fondamentale io non ho altro presidente io ora ringraziando il professor Stardia aprirei se c'è bisogno il dibattito le domande ci sono grazie per le prospettive del 2024 si parlava del villaggio della salute se ci può spiegare più nel dettaglio che cosa riguarda e poi allora dico l'idea perché è un'idea che l'ho buttata là dico l'idea spero che la portiamo a casa come regione allora praticamente è quello che è quello che racchiude la legge delega a 33 non è altro che quello che racchiude è la legge delega 33 ovvero dei muri ovviamente non dico il luogo e il posto dei muri ce li abbiamo non bisogna allora io dico che in questo momento bisogna cominciare anche a pensare ad una sanità di servizi perché i muri ce li abbiamo laddove dobbiamo costruire progetti di medicina di prossimità quindi questo progetto prevede la medicina di iniziativa ovvero una sanità una medicina di tipo One Hilt quindi con screening alla popolazione prevede la medicina di prossimità perché da mettere un punto salute e da inserire altri strumenti da portare degli specialisti IRCA perché noi abbiamo acquisito specialisti IRCA per l'abbattimento liste d'attesa e gli specialisti IRCA sono contenti hanno recuperato un senso di appartenenza notevole e sono contenti di girare e di andare a derogare prestazioni per il resto del territorio sicuramente lavorare su formazione di caregiver lavorare sugli infermieri di famiglia e lavorare anche al domicilio delle persone con praticamente una matrice trasversale che è la telemedicina o tecnoassistenza evolutiva medicina di iniziativa nella medicina di iniziativa e nell'invecchiamento attivo ci metto anche quello che è quel progetto che oltretutto si sta sperimentando nella maceratese dell'Agri Age dove quel progetto è veramente interessante con dei finanziamenti europei hanno partecipato al progetto 112 persone e dopo un anno di lavoro e di sperimentazioni persone che avevano un'età tra i 65 e gli 85 anni dopo un anno praticamente di sperimentazione del progetto è venuto fuori che queste persone avevano aumentato il benessere psicofisico l'altra cosa invece se ci può spiegare più nel dettaglio l'applicazione dell'intelligenza artificiale ai nuovi progetti allora spiego quello che il progetto che praticamente è stato rappresentato in più sedi nell'ambito dei diversi convegni IRCA lavora da un po' di tempo ed è stato firmato un protocollo con 16 comuni con l'Università Politecnica delle Marche e nello specifico con l'ordinario di ingegneria con il professor Germani allora è un progetto che prevede la piattaforma di telemedicina e tecnoassistenza ma l'Università Politecnica delle Marche ha elaborato una piattaforma con degli algoritmi la piattaforma si chiama Mosaic che praticamente cosa fa nella popolazione insieme a specialisti IRCA che praticamente fanno cioè c'è il cardiologo c'è il il medico riabilitatore cioè l'infermiera praticamente fanno come screening ECG a tappeto in una determinata popolazione la visita ecocardio dopodiché effettuate queste prestazioni praticamente si vengono immessi questi dati in una piattaforma e c'è e vengono fuori insomma grazie a questi algoritmi vengono fuori le classi di rischio della popolazione quindi si va a stratificare la popolazione e la classe di rischio riassumo non so se avete se conoscete il DM77 il DM77 cosa prevede prevede sei classi di stratificazione della popolazione ovvero dalla popolazione che non ha mai avuto contatti con il sistema sanitario fino ad arrivare all'ultima classe che è la persona che è un quasi terminale quindi per fare una programmazione sanitaria concreta cosa ci serve ci serve a stratificare la popolazione come la stratifichiamo ecco questo è uno strumento che serve a stratificare la popolazione per definirne poi il fabbisogno in un'ottica di programmazione sanitaria sì ho spiegato quello più che è nato poi c'è tutto il resto anche le potenzialità dell'intelligenza artificiale sono molteplici appena accennato prima la capacità predittiva cioè riesce a predire certo non all'infinito ma con un certo numero di giorni quello che potrebbe succedere quindi immaginiamo questo quanto può essere utile ma è stato anche detto può aiutare nelle metodologie di lettura e di diagnosi quello quello che è importante in questa fase quella quello che in gergo tecnico si chiama data lake cioè mettere insieme tutti i dati perché l'intelligenza artificiale riesce a gestire soprattutto questo è il problema riesce a gestire un gran numero di dati ma soprattutto riesce a gestire anche dati non strutturati cosa che i nostri modelli matematici e statistici attuali non riescono a fare quindi poi la sfrutteremo in tanti modi questi sono alcuni degli aspetti ma può dare la medicina di precisione diciamo la previsione e l'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito medico soprattutto negli anziani che sono soprattutto quelli che richiedono medicina assistenza interventi eccetera crediamo che sia fondamentale a questo proposito vorrei aggiungere che uno dei progetti della rinno grazie quindi su una 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 quantità importante di dati sono una delle applicazioni più interessanti per quanto riguarda appunto l'intelligenza artificiale quindi l'utilizzo di questi algoritmi per mettere insieme una serie di dati e questo lo farà verrà fatto all'interno dell'IRCA e verrà fatto in condivisione con gli altri 12 IRCS che fanno parte della rete aging e riguarderà espressamente proprio le tematiche delle patologie dell'invecchiamento quindi c'è un grande interesse non solo a livello dell'IRCA ma a livello nazionale e noi coordiniamo proprio questa attività bene se non ci sono altre domande io andrei verso le conclusioni che in realtà sono state fatte io voglio ringraziare il vicepresidente dell'assessore sottosegretario in maniera particolare tutta la struttura di IRCA per il lavoro che ha fatto la direttrice dottoressa Cabalbo tutto il suo staff tutti gli operatori che quotidianamente sono impegnati e li voglio ringraziare anche perché IRCA rappresenta una nostra eccellenza una peculiarità che coinvolge tre regioni ma soprattutto può rappresentare anche per la vocazione scientifica il futuro il futuro di una sanità diversa che sappia essere interprete e capace di arrivare in ogni ambito del nostro territorio ci sono dei dati molto importanti guardavo l'indice di vecchiaia che ci fa capire la complessità anche la diversità anche dell'impatto sul sistema sanitario delle nostre comunità quindi ecco veramente informazioni molto importanti ma chiudendo voglio dire anche un po' il senso di queste conferenze stampa noi vogliamo raccontare azienda per azienda azione per azione prima in maniera generica poi entrando nello specifico quello che noi stiamo cercando di fare col sistema sanitario regionale ogni azienda ha una specificità ha un territorio ha una vocazione ma tutti insieme fanno parte di un sistema la possibilità la capacità di lavorare in sinergia e cercare di scambiare relazioni e anche non solo informazioni e relazioni ma anche proprio cercando una strategia comune credo che possa essere il valore aggiunto quindi io vi ringrazio ringrazio di nuovo la direttrice Cabalbo e tutto il suo staff perché ecco questo che può sembrare banale queste azioni che possono sembrare banale sono frutto però di un grande sforzo e quella quota rosa come diceva prima il vicepresidente è frutto di un enorme impegno messo a disposizione della nostra comunità che testimonia anche come nell'ottimizzazione delle risorse si possa trovare una prima grande risposta alla fase di criticità che è una fase che ci ha consegnato il covid che ci ha consegnato anche tante altre situazioni che non vogliamo oggi stare qui a raccontare però che sono frutto appunto del risultato di una storia diciamo che purtroppo disegna nella nostra regione ma in tutta Italia una situazione complessa ecco però veramente tutte queste azioni che ci sono state raccontate e io credo che possano portare il sistema sanitario regionale IRCA sistema sanitario regionale a dare una risposta alle aspettative presenti e future dei nostri cittadini quindi grazie e ci vediamo la settimana prossima con un'altra conferenza stampa e ci vediamo